Ciao a tutti ragazzi, siamo al venerdì e il venerdì è il giorno delle grandi novità, tantissime novità in ambito del modellismo, intanto andate a scoprire direttamente sul nostro sito store.motosportitele.it abbiamo creato un nuovo design e un nuovo logo per un traguardo davvero molto molto interessante. Ragazzi, grazie a tutti voi e qua partiamo subito fortissimo con novità pazzesche. 1,43 del mondo, solido, siamo in Francia, produzione molto interessante, Nissan GTR R35, Liberty Walk kit verde, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in colorazione nera che la Burago aveva fatto in colorazione verde e in colorazione rossa. Queste sono 1,43 in teca, un qualità prezzo davvero molto molto valido, le vedrete tra stasera, domani online, sono molto interessanti, prezzo più o meno sui 24-25 euro, davvero bellissime, come anche l'Alpine, alpina, scusate, B10, BMW, Biturbo e 34 bianca, davvero stupenda anche questa ed è bellissima anche la versione McLaren 765LT in colorazione arancione con i dettagli neri. Bellissima anche questa, ma sempre rimaniamo in mondo 1,43 perché finalmente è uscita la Williams 2023 di un grande album al primo Gran Premio del Bahrain dove arrivò decimo, la macchina bellissima, cosa e dettaglio che mi piaceva davvero da impazzire, Duracell, lo sponsor messo vicino al di sotto della telecamera, questa è una genialata a livello di marketing, la macchina è davvero stupenda, il modello mi piace tanto, il pilota secondo me va fortissimo. A proposito di piloti faremo uscire nel canale anche la news del mondo Ferrari perché è una bomba veramente, 2025 cosa succederà è davvero un qualcosa di incredibile, ma noi continuiamo il nostro tour andando a vedere delle 1,43 davvero favolose, siamo nel mondo look smart, quindi in Italia modelli realizzati in resina, in scala 1,43 Ferrari e Lamborghini e partiamo subito forti con Ferrari 296 GT3 di una colorazione impressionante, è un modellino davvero stupendo, rosso fuoco con dettagli neri, rigature nere, quella di presentazione, la launch version GT3 296, noi ci immaginiamo solo che il modello vada fortissimo, ma sicuramente è già stupenda, è bellissima. Poi ragazzi le revuelto sono arrivate in 1,43, sono anche in arrivo le 1,18 del mondo Burago e Maisto finalmente, qua sono davvero meravigliose, colorazione bianco avus, nera, rossa e verde lime. 43, luxury box, un'edizione speciale, Ferrari SP1, BBR, tiratura limitata di soli 100 esemplari, l'abbiamo messa qui in vetrina, noi abbiamo la numero 78, il case è davvero fotonico, bellissimo, dettaglio stupendo, la base in vera pelle, modello davvero tanta tanta roba. Ma proseguiamo perché ragazzi le novità sono tantissime e voglio farvele vedere tutte, quindi rimaniamo connessi perché qua andiamo a scoprire un mondo molto interessante, la qualità è al top qua, parliamo di resina, parliamo di tirature numeratissime e guardate queste versioni pavolose del mondo MR Models, perché qua abbiamo una Daytona SP3, la terza versione del mondo Icona Ferrari che riprende appositamente dalla 330 P4 con questo design moderno davvero futuristico ma comunque con un'idea basata sul passato, questo effetto del Daytona della 330 P3 che comunque era aperta come anche la P4, questa è una versione davvero incredibile, bellissima e questa è la giallo Modena ragazzi con interni blu, quindi proprio ufficiale di Modena questa macchina davvero incredibile e qua ne abbiamo una anche come piace a me perché è un verde molto acceso con interni rossi ed è un modello impressionante e ragazzi questa è in tiratura numerata di soli 49 esemplari, qua abbiamo una versione bellissima, davvero stupenda con dei dettagli unici perché MR Models è davvero una qualità altissima, pensate solo che questi modelli sono quelli che vanno direttamente ai dealer ufficiali Ferrari e nel momento in cui un cliente Ferrari acquista una vettura gli viene consegnato un modellino dell'MR Models, quindi qui davvero la qualità è davvero altissima. Andiamo e continuiamo il tour delle bellezze e delle novità con degli arrivi di un mondo favoloso perché qui c'è un binomio molto interessante, due brand tra i più famosi in assoluto, Lego e Ferrari e qua abbiamo una versione della 512M ed è davvero bellissima ragazzi, è tutta da costruire ma ci abbiamo tantissime altre versioni del mondo Lego Speed come la Fast & Furion, la Nissan GT-R ma anche la Zonda Utopia, la Porsche, la Lotus, la Countach, insomma ragazzi dei modelli bellissimi per chi ama costruire e per chi ama i Lego. Queste sono novità molto interessanti che inseriamo adesso nel catalogo, mi piacciono davvero tanto, molto molto interessanti, andremo sicuramente a valutare anche le versioni dei Tecnic, scriveteci anche nei commenti voi che cosa ne pensate, ma proseguiamo il tour e qua troviamo. Io vi ho messo la Teca, perché? Perché la Teca è la stessa della versione nera che avevamo base più Teca per il mondo Burago ma per qualsiasi genere di modellino. Adesso Burago ha tirato fuori due altre versioni, la Teca è la medesima quindi va bene per tutte le basi ma le basi cambiano colore, ci dovrà arrivare anche la base bianca, abbiamo già la base giallo Modena e la base rosso Corsa per metterci al di sopra il vostro modellino, renderlo davvero molto più prezioso. Guardate ad esempio questo modello della Formula 1, adesso chiaramente questa non è fissata, la possiamo appoggiare, questa ad esempio è un 1.24, tra l'altro un 1.24 molto vintage perché parliamo di un made in Italy, però si possono fare tante combinazioni anche con modelli molto più importanti assolutamente. Al di sopra c'è la sua Teca che si fissa perfettamente perché la grandezza di questa Teca è quella di un 1.18 Burago quindi davvero ottima in versione gialla, in versione rossa anche queste ve le linkeremo qui sotto nella descrizione e a brevissimo le troverete direttamente online nel nostro sito. Ma ragazzi il tour prosegue, il tour delle meraviglie prosegue perché? Perché 2025 c'è un uomo sette volte campione del mondo che arriva in Ferrari e noi qua vi apriamo un 2020 campione del mondo Lewis Hamilton con la Mercedes tiratura numerata 333 esemplari, un modello davvero stupendo, numero 44, Mini Champs, Special Box e Special Edition. Possiamo ammirare la bellezza di questo case che è davvero meraviglioso in una scatola davvero stupenda per commemorare un grandioso Lewis Hamilton, questo sicuramente è un modello che col tempo si rivaluterà assolutamente anche il fatto della tiratura numeratissima. Ma qua ci aggiungiamo due CMC, una più rara dell'altra perché? Perché versione giallo Modena era 275 GTB-C, colorazione gialla bellissima, metal di cast completamente aprivole, poi nel sito abbiamo fatto anche le foto con il modello aperto, qua è una qualità davvero al top e qua ritroviamo una qualità davvero impressionante e soprattutto una tiratura limitata perché la tiratura limitata in colorazione verde è davvero bellissima. È una 275 molto elegante, molto fine, molto dettagliata. Faremo un video anche su CMC per spiegarvi la qualità perché davvero ragazzi parliamo di un brand che è incredibilmente di una qualità altissima, soprattutto modelli che sono forme praticamente di investimento perché rimangono comunque nel tempo, sono tirature che non vengono riprodotte. Adesso CMC nel 2024 proporrà una serie di modelli favolosi, qualcuno ve lo annuncio già, la 904 della Porsche, delle varie versioni Targa Florian, Urbul Green, insomma delle versioni Endurance e poi inserirà la 250 LM Ferrari in varie tipologie, anche la vittoriosa Le Mans e anche la KM di Monza, davvero spettacolare e reinserirà i due CarSporter Maserati e Ferrari a breve, anzi i CarSporter li abbiamo già, abbiamo già i pre-order sul nostro sito, sono favolosi ma favolosa è questa sfilerata di Tecno Model 1.18 base che Tecno Model decide di cambiare, ci piace tantissimo perché mette un'ecopelle con cuciture davvero stupende, con versioni davvero impressionanti, la qualità sono modelli in resina realizzati davvero in maniera stupenda e poi abbiamo le versioni cosiddette uovo, F166, 212, GP Toscana, Pescara, Air Force, insomma sono bellissime, queste uovo, questa mi fa davvero impazzire, rossa con questa macchia panna, sembra come un cioccolatino che sia stato inserito all'interno di un cioccolato bianco e tirato fuori, è bellissimo, guardate che roba, questo è veramente spettacolare, una macchina che mi ha stupito perché non vedevo da tanto un modello del genere, soprattutto la versione uovo che è una versione molto particolare, questa è una tiratura numerata di soli 55 esemplari come anche le altre uovo perché ad esempio ritroviamo il GP del Toscana del 51 in soli 50 esemplari, questa numero 42 di 50, sono versioni ragazzi bellissime, tutte da collezionare ma guardate qua ad esempio un tazzo di nuvolari del 47, vittorioso al circuito di Parma, 1.18, ragazzi queste sono auto leggendari, Ferrari, questa è storia bellissima, bellissima davvero tanto e poi una delle prime tra lato Ferrari, poi qua abbiamo una Aston Martin del 59 Silverstone Trophy, ne abbiamo di due versioni, una con il numero 4, una con il numero 1, guardate che bellezza, sono stupende, tirature numerate, numeratissime perché 75 esemplari, la numero 4 e 55 soli, la numero 1, reliquie ragazzi, reliquie davvero, guardate anche tazze nuvolari winner circuito di Forlì, impressionante ma ragazzi parliamo anche delle 312 B3, 1973 dove ci furono due piloti, uno italiano e poi il grande Jackie X, vittorioso anche della Le Mans, ragazzi qua abbiamo le versioni press test car, quella senza numero, quella di presentazione, davvero bellissima e poi abbiamo di Jackie X due versioni, la versione Spagna in resina con il numero 7 e questa banda gialla centrale davvero favolosa e poi abbiamo la versione, guardate qua che gara per gara cambiavano, Monaco GP del 73 sempre Jackie X, sempre in tirature numeratissime, allora, la Monaco GP vi do qualche dato, tiratura numerata di 180 esemplari, mentre la versione Spagna GP di 155 esemplari, modelli stupendi e qua abbiamo altre due versioni interessantissime, Arturo Merzario, colui che aiutò Niki Lauda in quel famoso e bruttissimo brutale incidente in Germania, 1973 con una 312 B3, ragazzi questa è favolosa, 1.18 e qui abbiamo un F1 86 1986, un certo Michele Alboreto con il numero 27, questa era davvero una Ferrari che mi faceva impazzire, mi piaceva tantissimo questo modello, scrivetecelo anche voi, di quale è stata l'epoca più bella per voi del mondo Ferrari in Formula 1, ne sono davvero tanto curioso, le novità di oggi sono tante, tantissime, ce ne sono tantissime altre che vi consiglio anche di andare a scoprire direttamente al nostro sito, caricheremo il tutto il prima possibile assolutamente, e ragazzi io vi faccio un caloroso saluto, una buona serata, spero che il video vi sia piaciuto, un bel subscribe, sono riuscito anche a dirlo bene, Forza Motorsport e un grazie a tutti da Lorenzo.